Nella Sala degli Specchi della Biblioteca di Lonato del Garda è stata presentata la sessantesima Fiera di Lonato che si terrà dal 19 al 21 gennaio. La Fiera di Lonato nasce come una mini campionaria già negli anni 70-80 e quest'anno riusciamo, come anche nelle ultime edizioni, a riproporre questo aspetto. Quindi in Fiera Lonato dal punto di vista fieristico si trova davvero di tutto, dalle macchine agricole che sono il vero fiore all'occhiello della nostra manifestazione a tutto quello che può essere considerato commercio, artigianato in o gastronomia. Abbiamo oltre 250 espositori dislocati in quasi 7000 metri quadrati, spazi all'aperto, spazi all'interno e quindi c'è davvero di tutto. Oltre a questo ci sono comunque spazi sia per il sociale, per le manifestazioni, per associazioni lonattesi e non, dove appunto viene pubblicizzata la loro attività. Ci sono convegni, ci sono manifestazioni sportive, manifestazioni folkloristiche, c'è il palio delle frazioni, ci sono raduni automobilistici del Vespa Club, ci sono convegni appunto organizzati dalla Federcaccia, dalla Coldiretti, dall'associazione Quadrifoglio, dall'associazione EMA al Pesciolino Rosso, quindi c'è davvero di tutto anche per quanto riguarda i convegni e le attività collaterali che comunque sono un aspetto della Fiera molto importante. Noi speriamo di fare il pienone dal punto di vista dei visitatori, speriamo che il tempo ci dia una mano, è una soddisfazione comunque che anche la Fiera economicamente si finanzi da sola e quindi insomma vi aspettiamo i visitatori lonattesi, gli amici dei comuni limitrofi a visitare la nostra Fiera perché davvero ne vale la pena. Tante le iniziative collaterali ai tre giorni cardine, come ad esempio il circuito enogastronomico TETPORCELL. È un circuito enogastronomico che si svolge nei ristoranti che hanno aderito al progetto, che sono i ristoranti lonatesi, dura da domenica 7 infatti quindi già iniziato, fino al 28 febbraio si potranno degustare dei menù a prezzi molto convenienti che hanno come unico comune denominatore il fatto che sono a base di maiale, che maiale quindi è proprio il piatto tipico di lonato, così come del Bresciano, ma a lonato in particolare c'è l'os del stomac che è un salume tipico del nostro paese e quest'anno verrà tentato di battere il record del mondo di realizzazione con un salume di oltre 400 kg che verrà realizzato in piazza principale agli occhi dei visitatori. Questo il programma nel dettaglio. È la serata di gala che si terrà appunto il 13 di gennaio, è prevista presso il palazzetto dello Sport qui a lonato, alle 20.45 sarà presentata da Alex Rusconi e avrà come ospite principale Cristiano Militello. Durante la serata verranno premiati i bambini dell'Istituto delle Scuole Elementari Tarello di Lonato per il migliore tema e i migliori disegni e quest'anno il tema è stato la fiera che vorrei. Poi verranno premiate anche alcuni cittadini lonatesi che si sono particolarmente distinti per meriti di lavoro o anche civili. Poi a seguire, già nella settimana che precede la fiera, ci sono conferenze il mercoledì, il giovedì, il venerdì e anche il sabato e la domenica. Toccheranno i temi più diversi, sono organizzate da varie associazioni lonatesi, la Coldiretti, la Federcaccia, la sezione di Lonato, l'associazione Il Quadrifoglio, l'associazione Ema Pesciolino Rosso e l'associazione Madonna della Strada di Ponte Vico. Toccheranno temi diversi che sono eterogenei e possono interessare un gran numero di utenti. Poi abbiamo gli appuntamenti, quelli più classici, che sono le mostre, quelle che troviamo sempre all'Istituto delle Scuole Medie Tarello, dove c'è la mostra a cui sono particolarmente affezionata, che è quella delle copertine del numero unico e mostra fotografica sulle bellezze del nostro paese. Abbiamo la mostra, diciamo, quella che il cui tema è più attinente alla nostra fiera, è quella dell'agricoltura, di Cesare Morse Stabilini, presso la Sala degli Specchi, sempre qui a Lonato. Abbiamo una mostra del vintage e una mostra ornitologica, a cura della Federcaccia. Poi il Palio, che si terrà quest'anno il sabato, pomeriggio. Abbiamo poi l'evento che riguarda l'Hos de Stomec, con stavolta l'insaccatura e la pesatura che verrà fatta in Piazza Martiri della Libertà. E la speranza è quella di superare i 400 chili. Poi abbiamo ancora le visite, diciamo, quelle guidate ai principali monumenti del nostro paese, a cura dell'Associazione Polada e della Fondazione Ugo da Como, le salite alla Torre Civica. Poi ci saranno degli eventi in collaborazione con l'Ufficio Cultura, con l'Assessorato alla Cultura, come ad esempio la serata organizzata con la presenza della Banda Faber, dove ci sarà anche ospite Marco Ferradini, il sabato sera alle ore 21 presso il Teatro Italia. Banda Faber e il cantautore Marco Ferradini, si diceva, Saranno proprio loro i protagonisti del particolare spettacolo musicale di sabato 20. Sarà una serata sicuramente divertente, di grande musica, che ripercorrerà i grandi successi della discografia di Lucio Dalla e di Lucio Battisti. Quindi serata dal titolo Marzo 1943. Ancora voglio ricordare, se mi è possibile, ne approfitto, prendo l'occasione perché è senz'altro curata direttamente dall'Assessorato alla Cultura e anche dal collega Cristian Simonetti e collega Assessore, la mostra fotografica dell'autore Cesare Moro Stabilini, che è proprio in sintonia con la fiera agricola di Lonato del Garda, perché è una mostra di fotografie in bianco e nero che ripercorre quella che è stata l'evoluzione dell'agricoltura negli anni 50, 60, 70, quindi l'agricoltura del dopoguerra. Per cui per gli appassionati penso sarà un appuntamento interessante che non solo sarà limitato ai tre giorni della fiera, ma proseguirà per tutta la settimana successiva proprio in questo salone, nella Sala degli Specchi della Biblioteca Comunale, qui a Palazzo Zambelli. La fiera di Lonato faccia i fratonda, toccando quota 60 e il sinnaco di Lonato, nonché il presidente della fiera, fa un salto indietro nel tempo per ripercorrere le sei decadi precedenti. Devo dire che è cambiata molto, nel senso che noi siamo legati molto alla nostra fiera perché noi siamo un paese prevalentemente legato all'agricoltura, ha avuto uno sviluppo anche commerciale e industriale, ma l'agricoltura è ancora la base storica del nostro territorio. Una volta i nostri contadini venivano per Sant'Antonio in paese, si scambiavano gli animali, facevano degli acquisti, portavano il cibo all'oste e poi compravano il vino. Da lì era nata poi l'idea, in questo periodo di gennaio, di fare poi la fiera, che raggiungere 60 anni per noi è una cosa molto importante perché, come ribadivo prima, non è una fiera che ha una sua struttura, ma è nata tutta dal volontariato e dal rapporto con l'amministrazione. In questi 60 anni la comunità l'ha voluta, ci ha creduto molto e trova davvero i suoi valori di stare insieme, dell'amicizia, del territorio, della fiera che festeggiamo quest'anno. Tanto è vero che verrà inaugurata da tutti i direttori, da tutti i presidenti che hanno permesso il raggiungimento di un traguardo così importante come i 60 anni di fiera.